Istituto comprensivo Mariano Rossi senza acqua e il consigliere Simone Di Paola attacca l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore alla pubblica istruzione Maria Antonietta Testone, parlando di situazione a dir poco incresciosa. Si tratta di una delle scuole più grandi della città di Sciacca, che include anche le sezioni dell'infanzia con bambini molto piccoli, ed è facile comprendere come la mancanza di acqua determini gravi problemi igienico-sanitari. Succede anche questo, commenta poi Simone Di Paola, ossia che una scuola si ritrovi senza acqua, mentre la giunta sembra impegnata e interessata unicamente al carnevale. Non è la prima volta, peraltro, che tutto ciò succede. Lo evidenzia il nostro telegiornale, il dirigente scolastico Luigi Abene, confermando che ieri mattina gli operatori scolastici hanno constatato che le cisterne erano completamente vuote, ragion per cui è stato chiesto immediatamente al comune di Sciacca di provvedere al rifornimento idrico tramite autobotte. Richiesta che è stata soddisfatta però soltanto questa mattina, a fronte di un nuovo sollecito da parte della scuola. E pare anche che il quantitativo di acqua non fosse comunque sufficiente a sopperire alle esigenze dell'istituzione scolastica. In realtà la questione, a fronte del fatto che nel resto del quartiere non vengono lamentati i problemi di approvvigionamento idrico, va oltre il singolo episodio. È successo altre volte che la scuola sia rimasta senza acqua, nonostante il turno di erogazione idrica fosse stato regolarmente garantito da girgenti acque. È successo anche ieri mattina, ma oggi, all'apertura della scuola, le cisterne erano nuovamente vuote. Abbiamo chiesto all'assessore di disporre un controllo sugli impianti e sulle tubazioni. Dicara infatti il dirigente scolastico perché evidentemente c'è qualche cosa che non funziona nel sistema di pompaggio dell'acqua e di rifornimento delle cisterne. Al di là del fatto che, trattandosi di una scuola piuttosto grande, la richiesta di un autobotte va soddisfatta immediatamente, non dopo 24 ore. A questo punto è necessario però che il comune di Sciacca e Giorgentiacque effettuino le urgenti e necessarie verifiche per evitare che il caso possa ripetersi.